Delle password ho già parlato, se andate un po' a cercare tra le vecchie puntate dei tre minuti grezzi ce n'è una in cui parlavo, raccontavo con orrore di un furionda di alcuni giornalisti della RAI, mi pare in occasione di una delle ultime Olimpiadi dove hanno fatto una figuraccia perché oltre a fare dei commenti sessisti e terribili, irripetibili sulle atlete, si erano anche scambiati delle battute sulle password perché il giornalista di turno non riusciva ad accedere a non so quale network e si lamentava dicendo e porca miseria ma perché non usano una password decente tipo 123abc eccetera. Che se avete visto balle spaziali o qualsiasi altra ripresa ironica di film alla televisione e quando si vuole prendere in giro qualcuno per dire ma guarda quant'è cretina questa persona ha la password 12345abcde. Ecco parlo delle password perché ancora oggi nel 2023 c'è gente che non capisce l'utilità di una password difficile da capire, difficile da indovinare. Infatti quando mi capita di parlare con amici e amiche e dico io uso un gestore di password che automaticamente me le genera password che non possono essere pronunciate, che non sono parole quindi che non possono essere trovate dagli hackers usando quei programmi che fanno passare tutto il vocabolario delle diverse lingue fino a che non si trova la parola che è stata usata come password e lo fanno in millesimi di secondo queste cose qua. Quando dico io uso un anzi pago addirittura, sono pochi i servizi per cui pago un abbonamento annuale ma per il gestore di password sono felice di pagare un abbonamento annuale che mi dà tutta una serie di garanzie e di possibilità di gestire password anche con la famiglia eccetera. e la gente mi dice ma no ma cosa me ne faccio io, ma che entrino pure nelle mie email che hanno voglia di leggere le cose che scrivo buon per loro. E no è qui che vi sbagliate perché una volta che hanno le vostre password possono non solo leggere le vostre email direte voi chi se ne frega ma vi possono rubare l'identità. E poi una caratteristica delle persone che non capiscono l'importanza di password forti è che tendono a riutilizzare la stessa password per un sacco di servizi anche per servizi bancari, anche per servizi di identità, di speed eccetera. Quindi fatevi un favore usate un gestore di password quindi non scrivete le password da nessuna parte col gestore di password dovrete ricordarvene solo una di password e tutte le altre verranno incluse nel sistema e potete addirittura usare l'impronta digitale o il riconoscimento facciale quindi fatelo.